Buonasera, benvenuti. Giuseppe Girlando, il country manager della Dixen Italy, che vi parla in webinar questa sera in collegamento da Roma. Mi fa piacere di vedere così tante persone che si sono collegate da più parti e questa sera l'argomento del nostro webinar è quello dell'opportunità, quindi del business opportunity meeting, dell'opportunità di affari, che la Dixen da oltre 26 anni, da oltre un quarto di secolo, sta condividendo in tantissimi paesi in tutto il mondo. Chiedo conferma, magari prima di iniziare, qualcuno che è collegato, se vede la prima diapositiva e se sente correttamente la mia voce, così che io possa proseguire in tranquillità. Ok, grazie, quindi posso andare avanti. Appunto, come vi dicevo, oltre un quarto di secolo che Dixen sta proponendo la sua idea di affari, la sua idea di business, perché Dixen non è solo un coltivatore e produttore di prodotti a base di canoderma, ma per far conoscere questo prodotto in tutto il mondo ha ritenuto opportuno di utilizzare uno strumento, uno strumento molto conosciuto, quello più semplice, potremmo ridurlo nel dire il passaparola, poi diciamo questo si è trasformato in una vera e propria industria che è quella del network marketing e quindi da qui, grazie diciamo a questo strumento, è riuscito a coinvolgere più di 9 milioni di distributori in tutto il mondo, con più di 50 sedi fisiche, effettive e oltre 180 paesi aperti, quindi una bellissima realtà. Questa sera che cosa vedremo? Stasera vedremo come, usando e consigliando i prodotti della Dixen, quelli che magari già conosci, già utilizzi, che sono prodotti appunto per il benessere e sono di uso quotidiano, puoi creati una vera e propria rete, una rete di consumatori, una rete di distributori. Immagina come se ti dessero l'opportunità nella tua città, nel tuo paese, insomma nella zona dove vivi, di aprire un grande supermercato, un supermercato dove hai a disposizione tantissimi prodotti e dove appunto convogliano tante persone, perché ovviamente si è inserito in un mercato dove c'è tantissima domanda da parte dei consumatori, da parte dei clienti, perché c'è tantissima attenzione, lo vedremo più avanti, perché in realtà l'industria della salute e del benessere, legata al mondo degli integratori, ma al mondo della corretta alimentazione, riceve costantemente molta attenzione. Quindi da qui, ripeto, attraverso la conoscenza e un utilizzo quotidiano e attraverso una sorta di pubblicità che fai, pubblicità attraverso la tua testimonianza, puoi raccogliere tanti consensi che sono lì, che non fanno altro che aspettare te e crearti appunto questa rete. Qual è la vision della DXN? Molto semplice, quello che ha dettato il nostro presidente, da tutto, dottor Limseo Jin, promuovere salute, benessere e felicità. Perché questi tre aggettivi, questi tre concetti? Salute, perché salute, diciamo, è un argomento dove le persone prestano molta attenzione, dove sono destinate a investire i propri guadagni. Benessere, perché? Perché il benessere è una conseguenza, diciamo, di uno stato di salute fisico e mentale e quindi se tu stai bene fisicamente, stai bene anche mentalmente, chiaramente hai uno status, uno stato di benessere. E questo che cosa ti determina? Ti determina felicità. Perché chiaramente questo binomio di stare bene in salute e soprattutto aumentare le proprie entrate, e quindi avere un portafoglio non più vuoto, ma un portafoglio che si vada ad arricchire, chiaramente non può che dare la felicità a te stesso e magari alle persone che ti circondano. Il nostro presidente, diciamo, ha avuto questa visione trent'anni fa e ha perseguito nel suo sogno, nella sua idea. Scusate. E questo ovviamente gli ha generato tantissima stima e riconoscimenti da parte di molti ambienti, ambienti scientifici, ambienti istituzionali, e quindi ha raccolto veramente tanti consensi e tanti certificati. In particolare per chi è curioso, appunto questa questa denominazione dato o adesso è diventato da tutti, sostanzialmente sarebbe un po' il cavaliere del lavoro da noi, quello che è un cavaliere del lavoro nominato dal presidente della Repubblica. Il dottor Lim ha generato, diciamo, questa azienda, è un'azienda di multilevel marketing, di nome DXN, che ha improntato il proprio core business, quindi il proprio nucleo, su prodotti a base di canoderma, che vedremo più avanti. Questo fungo medicinale è assolutamente fantastico. In questi 25 anni la DXN ha sempre scalato tantissimi gradini, fino a portarla nel 2018 al quindicesimo posto fra le prime 100 aziende di vendita diretta nel mondo, quindi un riconoscimento molto importante. E pensate, con un fatturato di oltre un miliardo e 25 milioni di dollari, quindi un risultato assolutamente importante. Ma per chi diciamo, perché tutti i nostri membri DXN, quindi tutti i nostri distributori, sono anche soci consumatori dell'azienda, perché chiaramente non si è consumatori. Sì, abbiamo anche un portafoglio di consumatori, che sono quelle persone che acquistano a prezzo pieno, a prezzo di destino, ma non vogliono, diciamo, per motivi personali, perché non interessa, perché magari molte volte il proprio sponsor non gliene ha parlato, non divulgano questo messaggio della DXN, quindi non fanno conoscere ad altre persone questa opportunità. Non fanno conoscere i prodotti, ma non fanno conoscere anche l'opportunità di business. E quindi questo, diciamo che alla fine è un peccato, perché si perdono sostanzialmente delle opportunità. Tornando però a questo concetto appunto dei nostri soci consumatori, immaginate voi che questo 1.25 miliardi di dollari, più della metà, quindi più del 50%, perché lo vedremo più avanti nelle posizioni del piano marketing, è stato ristornato a tutti i soci consumatori. Perché chiaramente la nostra azienda, un'azienda di multilivello, non ha tutti quei passaggi che può avere un'azienda tradizionale, ma dal produttore si arriva direttamente al consumatore. È tutto quello che si risparmia nella catena di distribuzione, quindi grande distribuzione organizzata, vendita al dettaglio, agente di commercio, pubblicità e quant'altro, viene tutto quanto raccolto in questo, diciamo, 50% e oltre e ridistribuito alla propria rete. Quindi per questo è molto importante, diciamo, anche se inizialmente solo per gioco, condividere i benefici di questo prodotto e i benefici di questa opportunità. Perché si è soci dell'azienda e l'azienda per questa attività, diciamo, di pubbliche relazioni, si riconosce il 50% del proprio fatturato. Concetti della Dixen, questo è un altro, diciamo, dei punti importanti, no? Per conoscere meglio, un pochino meglio, la Dixen e la nostra azienda. Innanzitutto è un'azienda verticalmente integrata, o potremmo dire a 360 gradi. Che cosa significa? Che l'intero processo di coltivazione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione viene eseguito esclusivamente dall'azienda, con degli standard molto rigidi. E quindi questo ci fa comprendere come ci sia una grossa differenza tra la Dixen e tante altre aziende meravigliose, aziende importantissime, che però non seguono tutto questo processo. Essere proprietari del know-how, di sapere come si coltiva in particolare il ganoderma per lasciarne inalterate tutte le proprietà, è qualcosa di molto importante. Converrete con me che c'è molta differenza invece di andare a comprare materia prima da altre persone, farsela preparare e poi metterla sul mercato. Altra cosa è essere proprio proprietari dei terreni, proprietari dei processi di coltivazione, proprietari dei processi di trasformazione. Insomma, tutta questa filiera è tutta affidata alla Dixen e quindi questo garantisce sempre un'assoluta qualità perché non ci sono terzi attori che possono non essere responsabili di questo processo. Un altro dei concetti è il discorso del One World One Market, quindi ogni nostro membro, ogni nostro distributore, ogni nostro socio consumatore con il proprio codice può lavorare in tutto il mondo, quindi può aprirsi non solo una rete nel proprio paese, nella propria città, nella propria nazione, ma si può espandere laddove la Dixen è presente. Come vi ho detto in precedenza, se vi ricordate, la Dixen è presente in oltre 180 paesi in tutto il mondo. Quindi pensate che opportunità di ampliare la vostra rete ovunque e oggi siamo molto fortunati perché grazie a tutti questi servizi digitali, a internet, possiamo veramente arrivare ovunque. Quindi questo diciamo che è molto importante per chi vuole sviluppare un'attività in giro per il mondo. Vedete ad esempio il nostro corona ambasciatore, l'asolo Coccio, che è stato appunto la persona che ha avuto l'intuizione un giorno di prendere l'aereo, andare dal nostro presidente e convincerlo a portare la Dixen in Europa. Lui è praticamente presente ovunque, è partito dalla sua nazione, che era l'Ungheria, per poi coprire tutta l'Europa, coprire l'Africa, coprire l'Asia, coprire i paesi dell'America Latina. Quindi, ripeto, ha avuto questa visione che non si è affermato nel suo paese e nella sua nazione, ma ha avuto l'opportunità, grazie alla Dixen, di arrivare ovunque. OneMind. Quindi, anche questo, l'azienda e i distributori si concentrano esclusivamente sulla promozione della salute e del benessere in tutto il mondo. Quindi, su promuovere uno stile di vita differente, uno stile di vita che si basa su un principio di alimentazione corretta, aiutato da una giusta integrazione alimentare. Abbiamo parlato che il nostro core business è rappresentato da questo fungo medicinale, dalla coltivazione, dalla trasformazione di questo fungo millenario, Ganoderma lucidum. È un fungo legnoso, è un fungo non commestibile, è un fungo che è ritenuto un dono degli dei. anticamente veniva consumato, siccome era rarissimo, soltanto dagli imperatori della Cina. Da una quindicina, da una ventina d'anni, i benefici di questo fungo medicinale, insieme ad altri funghi medicinali, adesso sono stati portati anche in Occidente. e quindi anche quest'altra parte del continente si stanno apprezzando i valori di questa medicina naturale. Alcuni benefici del Ganoderma, principalmente fa una grossa attività di pulizia all'interno del nostro corpo, quindi l'attività importante che va a disintossicare l'organismo e va a ossigenare le cellule. Quindi il nostro principio di integrazione alimentare si basa su questo. Se manteniamo disintossicato il nostro organismo, lo teniamo costantemente pulito, le nostre cellule vengono ossigenate, le nostre cellule restano sempre costantemente pulite e quindi ovviamente una cellula che lavora in maniera corretta ha meno possibilità di essere aggredita dall'esterno da appunto agenti esterni che possono farla ammalare e conseguentemente farci ammalare e quindi diciamo è questo il meccanismo come lavora il Ganoderma. Tra l'altro migliora la circolazione del sangue, rafforza il sistema immunitario, regola la pressione del sangue, riduce il colesterolo. Ma tutti diciamo questi aspetti voi li potrete trovare tranquillamente su pubblicazioni scientifiche o su un portale di natura scientifica che è PubMed dove scrivono e appunto depositano tutte ricerche scientifiche, medici, ricercatori, scienziati. E quindi ripeto, varrebbe la pena se volete di dedicare una mezz'oretta del vostro tempo a vedere appunto quanti risultati positivi porta l'assunzione quotidiana del Ganoderma. Queste altre immagini che vedete appunto la nostra storica, i nostri storici impianti che sono in Malesia, proprio all'interno della giungla. Perché? Perché ovviamente i nostri ricercatori hanno individuato una zona assolutamente incontaminata. Quindi in questa zona appunto nel cuore della Malesia viene coltivato il nostro Ganoderma. Noi utilizziamo la coltivazione idroponica come vedete nell'immagine davanti a voi e quindi questo diciamo ci garantisce un'assoluta assenza di agenti patogeni o quant'altro. Abbiamo replicato sostanzialmente quello che può essere il clima, quello che può essere l'habitat di questi funghi mantenendo appunto una temperatura, un certo grado di umidità. Quindi proprio per simulare le stesse condizioni che questi funghi trovano nascendo appunto spontanei. Perché il, diciamo, il Ganoderma della Dixine ha avuto successo per tutti questi anni e continua ad avere successo ed è stato così apprezzato in ogni parte del mondo? È dovuto principalmente al suo processo di estrazione. Processo di estrazione che è appunto raccolto in cinque brevetti esclusivi da parte di della Dixine che fanno sì che tutte le proprietà naturali del Ganoderma, quindi tutti gli elementi che sono contenuti all'interno del Ganoderma, rimangano assolutamente inalterati. E quindi facciamo un metodo di estrazione a freddo, successivamente separiamo le fibre, essicchiamo appunto questo Ganoderma che viene quindi successivamente polverizzato per avere una concentrazione totale. E voi immaginate che il rapporto praticamente che utilizziamo è 20 a 1, cioè significa che noi utilizziamo 20 kg di materia prima, quindi di fungo Ganoderma, per poi ottenerne solamente uno. Quindi è un rapporto altissimo. Questo proprio perché la nostra attenzione è stata quella sempre costantemente e continuamente nel corso degli anni di mantenere una concentrazione elevatissima. Successivamente trattiamo tutto con raggi ultravioletti per migliorare l'effetto terapeutico. Le spore separate vengono micronizzate con una tecnica speciale e tutte le proprietà del Ganoderma sono conservate proprio grazie a questo processo. Ma voi vi chiederete, ma perché devo scegliere la DXN quando in realtà ci sono anche altre aziende che producono il Ganoderma e che magari lo fanno sempre attraverso lo strumento del multilevel network marketing? Beh, innanzitutto perché DXN è, come abbiamo detto in precedenza, è un'azienda reale, cioè nel senso che è proprietaria di quello che fa, ha il know-how di come si coltiva, di come si raccoglie, di come si tratta il Ganoderma, no? E anche altri prodotti. Quindi ha una conoscenza che è un valore in più rispetto, diciamo, a utilizzare terzisti. È un'azienda a livello mondiale, è un'azienda solida, è un'azienda che lavora esclusivamente con i propri capitali, quindi non è quotata in borsa, non ha esposizioni bancarie. Ha tantissimi certificati che vi invito ad andare a vedere nel sito www.dxn2u.com, nella sezione riconoscimenti, vedrete quanti certificati appunto ha ottenuto e costantemente ottiene, certificati che riguardano appunto l'ISO 9001, l'ISO 14001, il GMP, quindi Good Manufacturing Process, cioè un processo, diciamo, fatto con tutti i criteri, il certificato biologico malese europeo e italiano. Quindi voglio dire, diamo dei prodotti che sono assolutamente garantiti e certificati. Sono dei prodotti fantastici, perché dico prodotti fantastici? Perché sono dei prodotti che si vendono da soli, sono dei prodotti che in realtà il nostro consumatore apprezza e quindi riordina e questo è molto importante. Perché è molto importante? Perché trattare prodotti che effettivamente vengono acquistati, consumati e riordinati garantisce al nostro socio consumatore, al nostro distributore una rendita costante e continua nel tempo. Ancora è una solita opportunità, solita opportunità perché innanzitutto c'è un costo per l'inizio dell'attività assolutamente irrisorio, lo vedremo più avanti. Che se lo andiamo a paragonare a un franchising piuttosto che a un'attività commerciale, lì parliamo di investimenti, qui parliamo di una spesa che facciamo, cioè una spesa per prodotti che consumiamo. Il nostro piano dei compensi non è mai stato modificato in 30 anni, perché se qualche cosa funziona non c'è bisogno di cambiarlo, è altamente remunerativo e arrivato alla posizione diciamo di diamante, quindi una posizione manageriale che è una delle prime posizioni che si raggiungono, già si entra, immaginate voi, nella condivisione degli utili dell'azienda. Quindi insieme a tutti i diamanti del mondo della DXN, la DXN ripartisce una percentuale che è il 2% verso appunto tutte queste qualifiche. Quindi quando io vi dicevo all'inizio, si è soci consumatori, in realtà si è soci perché gli utili si dividono semplicemente con i soci di un'azienda. Se uno è un consumatore, io non credo che se io personalmente consumo la pasta De Cecco, ne consumo, diciamo tutta la famiglia, consuma la pasta De Cecco, non è che il signor De Cecco poi alla fine dell'anno mi ridistribuisce gli utili del suo pastificio. Assolutamente, sono un consumatore. Quando divento un socio consumatore, allora a quel punto ho diritto di ottenere anche la ripartizione degli utili dell'azienda stessa. Abbiamo detto, sono dei nostri, sono dei prodotti straordinari, prodotti straordinari che nel corso del tempo sono aumentati nel nostro, diciamo nel nostro catalogo, perché inizialmente 26 anni fa avevamo soltanto due prodotti, il Raishigano, quindi il corpo del fungo, del Ganoderma e il GL, il Ganocelium, quindi il Micelio, le radici del fungo stesso. Nel corso di questi 30 anni abbiamo più di 150 prodotti nel nostro catalogo, qui in Italia ne abbiamo circa una sessantina, perché alcuni prodotti non è possibile introdurre nel mercato europeo per una serie di regole, di regolamenti e di approvazioni. E quindi, diciamo, con questi 60 prodotti che appunto spaziano, come adesso vi illustrerò, dalle bevande, quindi abbiamo tutta una linea di caffè solubili a base di Ganoderma, con aggiunta di Ganoderma, che possono soddisfare anche i palati più difficili, quindi il caffè nero, il black coffee con aggiunta di Ganoderma, quindi un caffè che si avvicina molto al nostro caffè espresso, piuttosto che al caffè della moca. Abbiamo un caffè invece un pochino più delicato, che è il tre in uno, sempre con un'aggiunta di Ganoderma, panna vegetale e zucchero di canna. Abbiamo ad esempio il caffè con il cordiceps, quindi al posto del Ganoderma abbiamo aggiunto quest'altro fungo, importantissimo perché dà tantissima energia, tantissima lucidità mentale. Abbiamo, insomma, veramente ne abbiamo di tutto e di più, per non trascurare ad esempio il succo di noni, che noi abbiamo battezzato Morinzi, quindi un potentissimo antiossidante. Il cordipine, quindi cordiceps con anas fermentato, ottimo ad esempio per quel lavoro, diciamo, di pulizia del nostro colon, del nostro intestino. Quindi, ripeto, con le bevande prendiamo praticamente un settore merceologico molto importante con tantissimi prodotti. Poi, quello che è il nostro core business è gli integratori, quindi questi integratori appunto fanno da padrone, qui ovviamente, i prodotti a base di Ganoderma, quindi l'estratto di Ganoderma al cento per cento, il corpo del fungo, quindi la parte, diciamo, del cappello, immaginiamola così, e le radici, il micelio. Quindi il primo, questi vengono sempre, diciamo, dovrebbero essere assunti in combinazione, perché l'RG ha questa azione disintossicante, mentre il micelio, quindi le radici, hanno questa azione appunto di riequilibrare tutto il nostro organismo, di ossigenare costantemente le nostre cellule e mantenerle sempre molto attive. Poi abbiamo, ad esempio, quello che viene definito il lion's mane, che sarebbe il nome scientifico ericium erinaceus, quindi un altro fungo molto importante che ha una duplice azione sulla parte, diciamo, dell'intestino, dello stomaco e anche e soprattutto sulla parte cerebrale. Quindi viene utilizzato tantissimo per quelle persone che soffrono di Parkinson e che soffrono, appunto, di Alzheimer, ma non solo, diciamo, anche per quelle persone che soffrono di momenti di stanchezza mentale, è certamente un ottimo prodotto. Abbiamo parlato del cordicex, utilizzato tantissimo dagli sportivi, perché è un qualche cosa che va a ossigenare il sangue e che va a, diciamo, dare più opportunità a livello di respirazione, a livello di resistenza. Aiuta nel recuperare, diciamo, gli sforzi fisici. Anche qui abbiamo poi, ad esempio, l'androgì, che non è un fungo, è un'erba molto amara che noi potremmo, diciamo, mettere e sostituire completamente con tanti antinfiammatori, con l'aspirina, ad esempio, perché ha un'azione assolutamente analgesica, assolutamente antipiretica. Abbiamo il poria S, che è un altro fungo, il poriacocos, sarebbe che è un fungo che è utilissimo, ad esempio, per calmare la nostra mente. Non è un sonnifero, ma, a differenza del sonnifero, diciamo, aiuta a dormire la notte, perché praticamente dà una serenità un po' a tutta la nostra mente. Poi abbiamo il mercato della cura e igiene della persona, perché abbiamo ritenuto che tutto ciò che facesse bene all'interno del nostro corpo non poteva che far meglio al tessuto più grande che abbiamo, che appunto la pelle. Quindi anche qui abbiamo tutta una linea di prodotti a base di canoderma, partendo dal sapone per arrivare al dentifricio, shampoo, bagno schiuma, olio per massaggio a base di canoderma. Quindi anche qui una linea completa. Poi, da circa due anni, poco meno di due anni, abbiamo introdotto in partnership con una delle più importanti, forse la più importante azienda coreana, questa linea, queste due linee di cosmetici. La di XN Gen Puri, a base di tattufo, canoderma e spirulina, e la M Miracle, anche qui a base di spirulina e canoderma. Quindi altri ingredienti assolutamente naturali. Quindi anche qui siamo entrati in un settore con un'azienda strategica che da anni è presente con innovazione, sfruttando un po' tutta la nanotecnologia, con queste due linee di prodotti completamente naturali che possono anche qui, diciamo, aiutare la nostra pelle. Quindi noi abbiamo, non abbiamo fatto altro che prendere dei doni fantastici che la madre natura ci dona per, appunto, metterli alla portata di tutti quanti. Adesso, diciamo, conclusa la parte di conoscenza dell'azienda e conoscenza, appunto, dei prodotti e dei loro mercati, vediamo qual è l'opportunità di business, l'opportunità di affari che ci propone la di XN. Allora, la raccogliamo qui, diciamo, per esporverla in maniera molto sintetica. Con di XN avete l'opportunità, avete 10 opportunità di guadagno, che parte dalla vendita al dettaglio per arrivare, diciamo, ai famosi incentivi della di XN. Andiamoli a vedere un pochino più da vicino. Prima di vederli da vicino, però, appunto, vediamo com'è la crescita nel piano marketing. Si parte come distributore, si fa una carriera in funzione delle persone che si fanno crescere all'interno della propria rete, della propria struttura, per arrivare poi a quella famosa posizione di diamante, possiamo chiamare che il primo step, definiamolo da professionista che abbiamo all'interno della nostra azienda, che ti fa automaticamente diventare un socio dell'azienda stessa. E qui, ecco, vedete, qui c'è un aspetto, diciamo, che io ricordo sempre non deve essere il punto di arrivo, ma deve essere il punto di partenza. Ma è un punto importante. Perché è un punto importante? Perché a differenza di altre aziende di multilevel, la di XN è un'azienda soft. Che cosa significa un'azienda soft? Cioè non ti costringe a fare grossi acquisti personali per poter rimanere, diciamo, sempre in attività o per consentirti di prendere le provvigioni, quindi i bonus sugli acquisti di tutte le persone che hai coinvolto. In DxN è sufficiente fare solo 100 punti al mese per essere attivi. Cosa significa 100 punti? In termini di denaro, meno di 100 euro o all'incirca 100 euro. Quindi questo perché? Perché per la DxN è molto importante che si faccia, diciamo, sempre un consumo personale. Se sei socio consumatore, il primo step che dovresti fare è quello di consumare con entusiasmo i prodotti della tua azienda, se poi ne diventi un portavoce. E quindi diciamo che questi 100 punti rappresentano il tuo autoconsumo personale, fatto magari da una scatola di caffè solubile, da un paio di integratori, un dentifricio e un sapone e qualche altra cosa. Quindi, come vedete, diciamo che è, quando dico soft, significa che è un'azienda che non ti stressa, però deve essere il punto di partenza, non il punto di arrivo. Purtroppo molte persone confondono questo come faccio il minimo perché voglio ottenere il massimo. Sì, questo è vero, ma se io ovviamente in un'attività spendo zero, non posso pretendere di ottenere 10.000. Chi ve lo dice, o 100.000, chi ve lo dice è un furfante, è un lazzarone, è un bugiardo. Perché non può avvenire, perché altrimenti sarebbe un sistema che non si può mantenere da solo. È un sistema finto. Quindi questo diciamo che è un sistema che vuole condividere il fatto che, ti dico, guarda, per essere attivo e per poter, diciamo, continuare in questa attività non voglio che tu fai grossi sacrifici e fai grossi acquisti perché altrimenti perdi le posizioni. No, mi bastano questi 100 punti. Su questo io so che tu sei fedele, però ripeto, leggetelo come punto di partenza e non come punto di arrivo. Ovviamente più si va avanti, la DXN ti dice, ok, guarda, adesso che comunque hai raggiunto la posizione di star agente, quindi la prima, il primo scalino del successo che fai, non ti chiedo più i 100 punti, te li chiedo sempre come personali, però dato che hai già iscritto delle persone, perché se sei diventato star agente qualificato, significa che praticamente hai sviluppato un certo tipo di punteggio che vedremo personalmente, quindi significa che hai coinvolto altre persone, quindi se hai coinvolto altre persone ti chiedo di fare 100 punti a te e 200 punti che vengono da tutte le persone che hai coinvolto, quindi come vedete non è un piano che tende a, diciamo, farti spendere personalmente tanto, ma tende, diciamo, a insegnarti agli altri di fare un pochino la stessa cosa. Come abbiamo visto, diciamo, il primo step per guadagnare è fare un pochino di vendita al dettaglio, perché? Perché vendere i prodotti? Vendere i prodotti perché innanzitutto ti dà un guadagno immediato, perché diciamo che la differenza, il margine che c'è tra prezzo riservato ai distributori e il prezzo invece riservato al pubblico è circa il 30%, quindi immagina che se vendi 100 euro di prodotti, 30 euro è il tuo guadagno, ma poi soprattutto un conto è parlare, diciamo, di un prodotto, un conto è far provare il prodotto, un conto è far vendere il prodotto, quindi, ahimè, a volte le persone commettono l'errore di regalarlo questo prodotto. Se regalate qualcosa viene preso come un regalo e non viene apprezzato, al contrario, se voi invece esponete bene le qualità del prodotto e lo fate pagare alle persone, le persone sicuramente lo apprezzeranno maggiormente perché l'hanno pagato, perché c'è un po' questo concetto, diciamo, importante, che se una persona dà valore a qualche cosa, quindi la paga, sicuramente gli dà molta più importanza. Quindi chiaramente il primo, diciamo, step del vostro guadagno sta nella vendita del prodotto, vendita del prodotto che vi ripeto vi dà due possibilità, uno di far conoscere subito il prodotto e l'altro è quello di avere già i primi guadagni. Poi come funziona il piano marketing della Tizani? In maniera molto semplice, come funziona il Ganoderm, che praticamente è un prodotto che disintossica, quindi anche il piano marketing è molto semplice. E come si basa? Si basa che su tutti gli acquisti personali che voi fate, o gli acquisti personali che fanno le persone che avete iscritto, che avete coinvolto nella vostra organizzazione, ogni prodotto ha un punteggio. Questo punteggio, diciamo, vi dà diritto, vi dà la possibilità di essere accumulato, quindi in DixN non perderete mai i punti. Non è come in altre aziende che, ad esempio, il punteggio per passare di qualifica avete magari un mese o due mesi o tre mesi. No, in DixN questi punti, si accumulano tutta la vita. Quindi, che cosa succede? Che più punti accumulate per acquisti personali, appunto, e per acquisti che derivano dai vostri iscritti, in base al punteggio che accumulate, la percentuale del vostro bonus aumenta. Quindi, come vedete, con 100 punti, che è proprio l'acquisto personale, l'azienda vi riconosce il 6%. Arrivate a 300 punti nel corso magari di 15 giorni, di un mese, di 6 mesi, perché tanto non ve li porta mai via nessuno, arrivate al 9. Per arrivare, appunto, a 4.500 punti, che l'azienda vi riconosce il 21% di bonus. Ma soprattutto, con 4.500 punti, arrivate al primo step della vostra carriera, che è quello di star agent. Quindi, come star agent, siete partiti all'inizio come distributori con un 6% per arrivare a star agent a prendere il 21%. Qui vediamo un esempio, un esempio, diciamo, grafico di quello che può accadere. Quindi, io mi iscrivo il primo mese, faccio 300 punti, perché magari ho iscritto altre due persone che in una di loro fa 100 punti, quindi a 300 punti il primo mese già prendo il 9%, al secondo mese il 12%, perché a loro volta queste persone hanno continuato l'effetto della duplicazione, per arrivare al quarto mese dove ho raggiunto e ho accumulato 4.500 punti, quindi con una percentuale da star agent del 25%. Quindi, dopo 4 mesi, ma già 4 mesi diciamo che è un periodo abbastanza lungo, perché significa che questo esempio ha pensato, diciamo, di una persona che lo fa così per gioco. Però una persona che magari ci si impegna un pochino di più, basta immaginare, come illustrava in un webinar, un nostro leader, è sufficiente pensare che se ognuno, se noi personalmente o se le persone che abbiamo coinvolto, al posto di fare 100 punti, ne fanno 300, ne fanno 500, è ovvio che il periodo per raggiungere questa qualifica è molto più veloce, è molto più breve, ma soprattutto i guadagni sono molto più importanti. Poi che cosa succede? Io come ho raggiunto la posizione di star agent, come ho raggiunto la posizione di star agent, ovviamente oltre a quel famoso 25% che prendo, incomincio a ricevere anche un ulteriore percentuale che va dal 5 al 15%, perché chiaramente io sto incominciando a far crescere praticamente le persone che sono sotto di me. Quindi come vedete, quando io ho fatto diventare un altro mio collaboratore star agent, passo al 27%, ne realizzo due, quindi ne faccio crescere due, arrivo al 29%, ne faccio crescere tre, arrivo al 31%, più sempre quella famosa percentuale che va dal 5 al 15% come bonus di sviluppo. Con tre star agent qualificati non sono più star agent, ma divento rubino, divento star rubi. Ancora proseguo nella mia attività di formazione e di consolidamento della mia rete, della mia struttura. Quindi arrivo ad avere quattro star agent qualificati, arrivo ad avere il 33%, per arrivare poi a 6 star agent qualificati, ottengo il 37% di bonus e divento proprio socio dell'azienda, cioè divento uno star diamond, divento un leader, diciamo, del mio gruppo, un leader riconosciuto da parte della Dixen. Poi vediamo appunto che oltre a già questo bonus che mi è arrivato al 37% ho anche questo bonus di sviluppo, un bonus di sviluppo che praticamente mi viene riconosciuto perché su gli star agent che io ho fatto crescere, quindi che ho sviluppato, che sono al primo livello, quindi che sono in prima generazione, quindi che ho iscritto direttamente io, prendo il 5%. Quelli che invece sono al secondo livello prendo il 4% per arrivare al quinto livello dove prendo l'1%. Ovviamente come vedete il bonus di sviluppo va a scalare perché più sono lontani dalla mia prima generazione, più ovviamente questa percentuale naturalmente si riduce per poter gratificare tutta la struttura in maniera diciamo corretta, in maniera trasparente, in maniera meritocrata. Ma non mi fermo alla posizione di diamante, ovviamente la Dixen mi dà l'opportunità di continuare a crescere e la crescita, quindi il raggiungimento di qualifiche sempre superiori si deve a che cosa? Si deve innanzitutto a quei famosi punti che come vi ricordate non mi vengono mai elevati, quindi io continuo ad accumulare. E poi il principio è sempre lo stesso, quello di far crescere praticamente le persone che collaborano con me. Quindi con, abbiamo detto, sei star agent, io divento star diamond. Con uno star diamond che ho fatto appunto crescere, gli ho fatto raggiungere questa qualifica, io divento executive star diamond. Non ve la faccio lunga, per arrivare ad avere come il nostro corona ambasciatore 20 star diamond sponsorizzati e ad avere, ottenere il 37%, più un bonus di leadership, già partendo dalla posizione di star diamond, che va dal 5 al 15%. Sicuramente qualcuno di voi starà dicendo ma mi sono un pochino perso con tutte queste percentuali. Vi faccio una sorpresa, alla fine vi dico quant'è effettivamente quello che si va a prendere. Poi abbiamo anche, diciamo, degli incentivi, quindi oltre a queste percentuali che abbiamo visto in precedenza abbiamo ad esempio la condivisione degli utili, no? Partendo dalla qualifica di star diamond, quindi un 2% di international profit sharing. Poi abbiamo un 2% che non ci viene corrisposto in denaro, ma è un fondo che ci viene accantonato ogni anno per partecipare a un viaggio internazionale. Solitamente si fa in crociera, ma non solo. Quest'anno, l'anno scorso ad esempio c'è stata una crociera nei mari del nord, l'anno prima una crociera che partiva dalla Malesia per arrivare in Thailandia e a Singapore, ancora Dubai, insomma diciamo che ogni anno viene pensato un viaggio assolutamente fantastico, esclusivo per tutti qualificati. Quest'anno si sarebbe dovuto andare a Dubai per una convention internazionale, quindi a Hyderabad dove ci sono i nuovi impianti della DXN, ma purtroppo diciamo il viaggio è stato per il momento congelato effetto Covid-19. Però diciamo che sono sempre viaggi di molto livello e in realtà partecipare molto semplice, perché è un po' come la raccolta punti del, possiamo dire, di Trenitalia o dell'Altitalia. Quindi tutti i punti che noi facciamo personalmente e quelli che vengono dalla nostra organizzazione, quindi dalla nostra rete, quindi tutti quelli che sono collegati al nostro codice, si accumulano questi punti. Questi punti vengono destinati in un fondo e quindi si stabilisce prima della fine dell'anno quale sarà il punteggio per poter partecipare a quel viaggio e quindi tutti quei punti che derivano appunto dall'acquisto dei prodotti personali della nostra rete vanno in questo fondo e questo fondo consente appunto di partecipare a questo viaggio. Quindi qualche cosa di molto semplice, qualche cosa che potete monitorare costantemente perché ogni mese la Vizzen produce un estratto conto dove c'è il vostro bonus e dove si può visualizzare continuamente quali sono i punti che si sono accumulati. Poi c'è un incentivo in denaro per acquistare un cellulare che sono 150 euro e un incentivo di 1000 euro che viene dato una volta sola per fare un viaggio all'estero, che non c'entra niente con il viaggio che vi ho detto prima ma è un viaggio che solitamente viene fatto in Malesia per poter andare a visitare i nostri terreni e la nostra azienda. Infine solo per l'Europa abbiamo questo incentivo anche per acquistare o prendere a noleggio un'autovettura e la DXN praticamente con una performance veramente molto semplice che si basa su un acquisto personale, su una iscrizione e su un punteggio di gruppo ti dà fino a 500 euro per tre anni. Quindi per poterti pagare sostanzialmente la rata di un leasing o di un noleggio per una macchina o per quello che tu desideri. Quindi noi l'abbiamo così contestualizzato in una macchina perché è un po' diciamo il mezzo che serve ai nostri distributori per potersi muovere. Quindi riassumendo, questo era quello che vi avevo promesso prima, riassumendo, se noi andiamo ad accumulare tutte le varie percentuali legate allo status e legate ai punti che noi raccogliamo, come vedete noi arriviamo praticamente ad avere un bonus totale del 76%. Quindi quando io all'inizio vi dicevo che la DXN due anni fa ha raggiunto un fatturato di 1.25 miliardi di dollari e che più del 50% l'ha devoluto alla propria rete, parlavo di questo. Quindi in DXN si diventa soci di maggioranza dell'azienda stessa, perché diciamo che solitamente un socio minoritario ha una percentuale irrisoria. Noi con un bonus del 76% diventiamo veri e propri soci di maggioranza dell'azienda stessa. Come si può fare per iniziare? Per iniziare diciamo occorre fare un acquisto minimo, se si vuole essere diciamo solo consumatori, si possono acquistare anche un singolo prodotto, anche un solo sapone a base di canoderma a prezzo di listina. Se invece si vuole acquisire il codice, quindi avere l'opportunità di lavorare in tutto il mondo, di avere il 30% di sconto su tutti i prodotti e di avere la possibilità di sponsorizzare altre persone, la DXN ha pensato di far fare un acquisto minimo di 100 punti, che sono circa 100 euro. Con questo diciamo si acquisisce subito lo sconto del 30% e la possibilità di iscrivere e far entrare altre persone. Ma non c'è solo questa possibilità, c'è anche la possibilità ad esempio di acquistare tre kit dove ci sono all'interno i prodotti più venduti, quindi quelli che sicuramente comprereste a livello personale, ma che avreste anche l'opportunità di far conoscere ad altre persone. Ed è molto conveniente questo DSP, perché è molto conveniente. DSP è un acronimo che sta per Dynamic Starting Program, quindi diciamo la possibilità di far guadagnare subito dei bonus importanti per chi vuole iniziale. E anche qui come vedete la DXN è stata molto lungimirante perché ha pensato diciamo a tre kit per tutti, diciamo per tutte le tasche, per tutte le possibilità o per tutte diciamo le visioni che può avere una persona. Quindi abbiamo il kit C dove all'interno ci sono i prodotti, il costo sono, questi costi non sono proprio aggiornatissimi però indicativamente sono rimasti, c'è una piccola differenza di un 2%. Il valore sono 133 euro che si pagano, ma l'azienda ti ridà il 110%, quindi ti apre un credito di 147 euro che si riscatta come? Si riscatta praticamente continuando ad acquistare i prodotti però levando sempre un 10% di sconto fino a raggiungere praticamente ed esaurire questo credito di 147 euro. Oppure per chi magari vuole già iniziare una piccola attività c'è il kit B del valore di 375 euro, l'azienda ti ridà il 130%, quindi ti apre un credito, un plafond di 488 euro che tu andrai a esaurire continuando ad acquistare i prodotti elevandoti sempre un 10% costante. Qui come vedi hai 3 anni per poterlo esaurire. Oppure addirittura il kit A con 40 prodotti del valore di 655 euro dove l'azienda ti restituisce il 150%, quindi ti apre una linea di credito di 980 euro che tu ti potrai andare a scalare e a esaurire nel termine di 4 anni o meno, questo dipende diciamo da tutti gli acquisti che farai o dalle vendite che farai. Quindi questi diciamo che sono 3 kit molto interessanti perché sostanzialmente ti fanno recuperare un po' diciamo tutto quello che tu hai speso, ma badate bene questi sono esclusivamente riservati alle nuove persone che si iscrivono. Per chi già è nella rete non è possibile. Poi abbiamo adesso per il mese di maggio, qui ci tenevo, l'ho messo anche nella pubblicità della locandina ed è rivolto a tutti coloro che magari non hanno assistito al webinar che ho fatto spiegando questa promozione. È una promozione molto interessante. È sempre diciamo, mentre il DSP è rivolta solo ed esclusivamente ai nuovi iscritti, questa è rivolta ai nuovi iscritti ma a quelli che già sono in struttura. È un'operazione molto semplice, è stata battezzata più acquisti più risparmi o redemption del 100%. Perché praticamente tutti gli acquisti di maggio che tu farai in una o in più soluzioni ti creeranno un tesoretto, quindi ti creeranno un punteggio. Punteggio minimo sono 100 punti, come vedete diciamo siamo sempre molto coerenti con quello che è il nostro piano marketing. Quindi partendo dalla base di 100 punti e salendo tutto quello che tu andrai a spendere nel mese di maggio ti verrà riconosciuto come credito. Ma non solo. Facendo questo, tutti gli acquisti che tu hai fatto ad aprile, e questo diciamo che la Dixen ha voluto dare un riconoscimento che nonostante il lockdown, la grossa crisi, delle persone fedeli al prodotto hanno continuato ad acquistare anche ad aprile. Quindi tutti i punti che tu hai fatto ad aprile si sommeranno a quelli fatti a maggio. Quindi il tuo tesoretto ovviamente andrà a crescere ancora di più. E come avverrà questo? Praticamente se il... perché ovviamente poi i punti hanno un controvalore che sono il prezzo riservato ai distributori, sapete benissimo. Quindi cosa succede? Che se questi punti accumulati tra aprile e maggio danno un valore inferiore ai 300 euro, tu entri nell'opzione A, nel salvadanaio A. Se invece tu superi questi 300 euro, quindi è fatto da 301 euro fino all'infinito, entri nel salvadanaio B. E quindi che cosa significa questo? Lo vedremo più avanti nella prossima slide. Appunto questi sono i criteri che erano quelli che vi ho detto prima, quindi raggiungere almeno 100 punti anche in più soluzioni, anche in più acquisti nel mese di maggio. Questo ti darà la possibilità di recuperare anche i punti fatti ad aprile e quindi il... diciamo questi punti generano un valore in euro e questo valore se è inferiore a 300 euro entri nel salvadanaio A, superiore ai 300 euro entri nel salvadanaio B. Ovviamente tutti gli acquisti fatti per promozioni o per pacchetto di SP o quant'altro non rientrano in questa promozione. Quindi come vi avevo detto, per entrare nel salvadanaio A devi aver accumulato meno di 300 euro fra aprile e maggio. Se hai accumulato più di 300 euro ovviamente vai nel salvadanaio B. Per il salvadanaio A hai sei mesi di tempo per riscontare, per riscattare questi 300 euro. Come li riscatti? Ririscatti praticamente negli acquisti successivi. Quindi ogni acquisto che tu farai scalerai un 10% fino ad avere esaurito questo credito. Se invece sei nel salvadanaio B avrai 12 mesi di tempo per poter riscattare il valore che hai accumulato sempre con la stessa diciamo sempre con lo stesso criterio. Quindi recuperare sempre un 10% dagli acquisti che fai. E questo qui diciamo che è immediato perché partirà come vedete già dall'acquisto di giugno. Quindi è una promozione semplicissima ma è una promozione soprattutto che vi dà la possibilità di andare a recuperare tutto quello che chiaramente avete speso. L'unica condizione è che ogni mese che voi volete riscattare questo 10%, il minimo che vi chiede la DXN è quello di fare sempre questi famosi 100 punti che come avete visto il controvalore sono circa 100 euro. Quindi per fare un esempio molto semplice, se voi avete accumulato fra aprile e maggio circa 1000 euro di valore, tra gli acquisti che appunto avete fatto ad aprile e quelli che avete fatto a maggio, avete 1000 euro e entrate nel salvataio B. Quindi avete 12 mesi di tempo per rientrare di questi 1000 euro. Come? A partire già mese di giugno sul vostro primo acquisto che sarà immaginiamo di 100 punti, quindi di 100 euro, anziché pagare 100 euro pagherete 90 euro e quindi questi 10 euro andranno in detrazione di quel credito che era appunto di 1000 euro. E quindi questa è la promozione che vi invito a concorrere perché già tantissime persone la stanno facendo perché hanno capito che effettivamente tutto quello che spendono adesso a maggio, gli viene riconosciuto anche aprile, ma soprattutto lo vanno a recuperare. Quindi è una promozione assolutamente fantastica da non perdere. Il webinar termina qui, vi voglio ricordare i prossimi appuntamenti che saranno quello del 18 maggio con l'ultimo modulo sui cosmetici fatto dalla nostra naturopata e osteopata Patrizia Barbanti, dove andremo a vedere, ad analizzare tutti gli ingredienti che sono contenuti nelle maschere della linea Gen Puri e della linea Cacao e T3. Poi noi ci rivedremo il 20 maggio, che è un mercoledì, dove appunto terrò il corso per nuovi distributori o per distributori che sono già presenti in DXN. Quindi vedremo appunto quali sono i passaggi per non perdere nulla, i passaggi soprattutto per cercare di avere maggiori guadagni con la DXN. E quindi poi l'ultima notizia è con piacere finalmente che vi comunico che da lunedì prossimo, così come previsto dai vari decreti che sono stati pubblicati, la DXN potrà riaprire l'ufficio di Roma e quindi lo store. Noi siamo sempre stati operativi, non abbiamo saltato neanche una consegna, abbiamo sempre lavorato, pur da casa, però abbiamo sempre mantenuto il servizio così prima del lockdown. Però sarà un'altra cosa, diciamo, la possibilità di poter riaprire il nostro ufficio e di poter finalmente incontrare i nostri clienti, distributori che in questo periodo veramente ci sono e ci siete mancati tantissimo. Se avete delle domande potete farmele qui in chat, altrimenti le potete fare la persona che vi ha invitato questa sera a questo webinar. e la promozione del più acquisti e più risparmi è comunque pubblicata sui nostri canali, sui nostri social network e nell'area di xn2u.eu, quindi c'è tutto il regolamento, c'è tutta la spiegazione con vari casi, diciamo, che vi possono aiutare per fare questo percorso incredibile e quindi io vi do appuntamento a lunedì prossimo con la nostra Patrizia Barbanti per ciò che riguarda le maschere e il mercoledì successivo per fare questo corso per distributori. Io vi ringrazio per la partecipazione, se qualche cosa vi è sfuggito, se volete far vedere questa presentazione a qualche vostro amico, domani mattina la troverete pubblicata nel nostro canale YouTube che è appunto di Xenitaly, dove c'è appunto la registrazione di questo webinar. Per il momento vi ringrazio per la partecipazione e per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e sempre in gamba e fantastici con la DXN. Buonanotte a tutti.